L'ingegner Mario Porcu torna alla guida della Sota Carbo, l'Aggiunta regionale lo ha nominato nel CDA, a breve verrà rieletto presidente della società di ricerca che ha già guidato dal 2000 al 2015. Il futuro del polo industriale è legato alla transizione energetica, i delegati della centrale di Portovesme hanno incontrato il sindaco di Porto Scuso, Giorgio Alimonda. Una proposta di legge per fertilia, carbonia e arborea, l'iniziativa annunciata nella giornata del ricordo prevede uno stanziamento iniziale di un milione e mezzo di euro per iniziative culturali. In Sardegna cresce il numero dei test anti-covid, calano i contagi, nelle ultime 24 ore la percentuale dei nuovi casi sui test eseguiti è scesa allo 0,4%. Ben ritrovati su Canale 40, apriamo il nostro telegiornale odierno con una notizia che riguarda la Sota Carbo, tutti gli sforzi dei lavoratori della RSU sono stati diciamo ripagati dopo tanti solleciti, dopo tante proteste, l'annuncio anche dello sciopero permanente dei giorni scorsi. L'ingegner Mario Porcu ritorna alla guida della società di ricerca appunto la Sota Carbo di cui è stato presidente anche dal 2000 al 2015, la regione lo ha nominato all'interno del consiglio di amministrazione nel quale a breve assumerà di nuovo la carica di presidente. Vediamo il servizio di Gianpaolo Cirronis. L'ingegner Mario Porcu è il nuovo rappresentante della regione Sardegna nel CDA della Sota Carbo. La nomina risale il 4 dicembre scorso, delibera numero 62-14 ma è stata ufficializzata soltanto ieri. Mario Porcu, già presidente della società di ricerca per 15 anni consecutivi dal 2000 al 2015, subentra al dimissionario Alessandro Lanza che lo sostituì nel 2015. Resterà in carica per l'esercizio 2020 e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020. La giunta regionale ha delegato l'assessore della programmazione e bilancio Giuseppe Fasolino alla partecipazione all'assemblea dei soci che è stata già convocata per la giornata di domani 11 febbraio. Le organizzazioni sindacali hanno appreso della nomina nella giornata in cui ieri manifestavano e scioperavano a Cagliari per scongiurare il blocco dell'attività della società di ricerca. Ora attendono gli atti successivi, l'aumento del capitale della regione dal 50 al 51% e la creazione di un fondo di dotazione indispensabile per il proseguo dell'attività di ricerca. E si accende il dibattito sulla transazione energetica e tutto ciò che vi ruota intorno, in particolare nelle realtà dove sono presenti i siti di produzione. Tra questi c'è anche Porto Vesme con la centrale Grazia Delè, dal cui futuro è legato alle scelte che verranno fatte e attuate. Sentiamo di cosa si tratta. Lo scorso 2 febbraio i delegati della centrale di Porto Vesme sono stati ricevuti dal sindaco di Porto Scuso, Giorgio Alimonda, nella sala consigliare del Consorzio Industriale. La nostra principale preoccupazione, scrivono in una nota, è che a seguito dei veti imposti dall'amministrazione comunale, motivati con scelte ponderate in merito all'accavallamento di varie attività in procinto di attuazione, non sia ancora chiaro come Enel dovrà affrontare la transizione energetica. Purtroppo si sta prospettando un nuovo scenario nel quale l'approdo del rigassificatore galleggiante interferirebbe con lo sviluppo del polo nautico. La prospettiva dell'amministrazione comunale di Porto Scuso sarebbe quella di permettere l'installazione di un rigassificatore costiero con bacini di accumulo in una zona ritenuta più sicura e confacente alle necessità dell'intero polo industriale. In tal modo si renderebbe fruibile la banchina Riva Est per lo sviluppo di altri progetti che compenserebbero le ricadute sociali dovute alla riconversione della centrale elettrica grazie ad Eledda, che attualmente garantisce circa 400 posti di lavoro e che in seguito potrebbero questi diventare meno di 100 tra diretti e indiretti. Da parte nostra, aggiungono i delegati, riteniamo che debbano coesistere entrambe le realtà e chiediamo che venga stipulato un patto territoriale nel quale tutti gli attori si debbano coordinare nel miglior modo possibile, in primis per lo scioglimento dei nodi legati al porto industriale e all'approvvigionamento del gas. In secondo luogo, per commissariare il progetto di rilancio dell'intero polo energetico industriale con un adeguato utilizzo dei fondi del Just Transition Fund e infine, e non per grado di importanza, garantire i livelli occupazionali attraverso una riqualificazione e formazione delle risorse attualmente impiegate nelle poche realtà industriali rimaste ancora attive. Siamo convinti, sottolineano i delegati della centrale, che lo sviluppo moderno e intelligente dell'intero polo industriale possa convivere in simbiosi con l'ambiente e nessuno vorrebbe commettere gli errori del passato. Tralasciando i tecnicismi possiamo affermare che per ricongiungere il tessuto industriale il metano è essenziale perché permetterà ai vari attori di poter credere e investire nel nostro territorio. Ognuno di noi è pronto ad accogliere il cambiamento ma certamente nessuno di noi sarà disposto a perdere un solo posto di lavoro, concludono i delegati della centrale. Il nostro territorio già martoriato dalla crisi deve ripartire da zero e permettere a qualsiasi cittadino, a tutte le lavoratrici e lavoratori, a tutti gli artigiani e imprenditori ma soprattutto ai nostri figli di poter avere una vita sana e dignitosa alla cui base ci siano salute e lavoro. Voltiamo pagina adesso e passiamo alla politica locale. A Carbonia sta nascendo un nuovo gruppo civico che lavora in vista della partecipazione alle prossime elezioni comunali. Il progetto di un'aggregazione di liste civiche da proporre agli elettori a fine primavera per la prossima amministrazione della città di Carbonia trova una nuova adesione. È quella di un gruppo di persone di diversa estrazione che si sono riunite per dare vita ad una lista civica alla quale hanno già aderito Giovanni Tocco, Giuseppe Balia, Giuseppino Cossu, Gigi Giallara ed Enzo Pisano. Si avvicina l'uomento del rinnovo del Consiglio Comunale dopo cinque anni in cui la città ha approvato la guida di un'amministrazione che avrebbe voluto essere nuova alternativa ma che si è rivelata amaramente inconcludente e fallimentare, si legge in un documento del nascente gruppo civico. È stato un tentativo non riuscito di ricambio politico che con tutta probabilità ha lasciato delusi anche i suoi protagonisti e i loro sostenitori. È in questo grave contesto che si svolgeranno le prossime elezioni comunali in cui la politica dei partiti toccherà con mano la sfiducia e forse anche l'amarezza dei nostri concittadini che ormai non sono più disposti ad accettare la riproposizione di vecchi e in parte superati schemi della politica, si legge ancora nel documento. Il confronto tra i partiti conserva ancora oggi un senso nella logica della politica nazionale ma mostra dei limiti oggettivi nella capacità di rappresentare gli interessi dei cittadini. Noi condividiamo l'idea di un confronto politico di liste civiche che, riconoscendosi in modo inequivocabile all'interno dei valori democratici, operino per l'apertura di un dibattito pacato, civile, motivato dal sentimento di profonda appartenenza alla comunità cittadina per mettere al centro i problemi che ogni giorno vivono i cittadini di Carbonia. Abbiamo necessità di mettere il futuro di Carbonia nelle mani delle sue donne e dei suoi uomini migliori che abbiano a cuore la restituzione alla nostra città e al territorio, si legge ancora nel documento, la dignità istituzionale che consenta una effettiva capacità di autogoverno. In questa logica diventa essenziale la rinascita della provincia di Carboni Iglesias con l'elezione diretta dei suoi rappresentanti. Il sentimento di appartenenza, di attaccamento alla nostra città e al territorio, possono essere il denominatore comune per una nuova politica che deve unirci per restituire a Carbonia e al sulciglesiente, conclude il documento del nascente gruppo civico, lo sviluppo economico, sociale e il peso istituzionale che ci è stato sistematicamente sottratto nel corso di questi anni. Diamo adesso uno sguardo invece ai dati sui contagi da Covid-19. Sono 81 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna. 17.184 i test eseguiti tra molecolari e antigenici, lo 0,4%. Salgono a 39.664 i casi di positività dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 620.008 tamponi. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dello 0,4%. Si registrano 8 decessi. Sono 371 i pazienti attualmente ricoverati in ospedali, nei reparti ordinari, quindi non intensivi, 37 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare invece sono 13.978. In Consiglio regionale è stata presentata una proposta di legge per far conoscere Arborea, Fertilia e Carbonia. Vediamo. Un milione e mezzo di euro per far conoscere la storia e la cultura di Arborea, Carbonia e Fertilia, le tre città di fondazione più importanti della Sardegna. Denari che potranno essere spesi per manifestazioni culturali e per altre iniziative di richiamo. Sorretta da una larghissima maggioranza la proposta di legge è stata presentata questa mattina da Michele Ennas della Lega, Giorgio Oppi dell'Udc, Emanuele Cera di Forza Italia e Francesco Mura di Fratelli d'Italia. Proprio quest'ultimo ha sottolineato il fatto che non è una coincidenza la presentazione di questo testo normativo nel giorno della memoria per le vittime delle foibe, perché la Sardegna, in particolar modo Fertilia, hanno accolto centinaia di esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, territori dove i partigiani del dittatore Tito hanno massacrato la popolazione civile inerme. Per Michele Ennas la legge si propone di valorizzare un patrimonio culturale celato e meno noto. Con uno stanziamento iniziale di un milione e mezzo di euro si potranno finanziare iniziative culturali organizzate dai comuni, dagli enti locali o anche dai privati. Spetterà poi alla Giunta individuare le modalità e i tempi. Di Carboni e del suo sviluppo che grazie all'arrivo di siciliani, calabresi e altri, dalla fine degli anni 30, ha portato la città ad avere anche 50.000 residenti, ha parlato a Giorgio Oppi, decano dei consiglieri regionali della Sardegna. Giorgio Oppi si è augurato la rapida approvazione di una legge che unisce tutti. Per Emanuele Cela è necessario e giusto ricordare anche i contadini e gli operai sardi, in particolare della provincia di Oristano, che hanno liberato le paludi di Terralba per consentire la Fondazione di Arborea. Questa legge è un riconoscimento anche per loro. Ora il testo, che si compone di otto articoli, dovrà essere approvato dalla Commissione prima del passaggio definitivo in aula. Adesso torniamo a parlarvi del sogno per Camilla, un sogno per Camilla. E questo è il nome che la stilista di Carboni e Maria Antonietta Sorgia ha voluto dare all'iniziativa benefica nata nel suo atelier Antea, dove confeziona abiti per gli sposi. Come già saprete, Camilla Serafini, 28 anni, è una giovane ragazza di Carbonia che per la terza volta nella sua vita si trova a combattere contro una brutta forma di cancro, per il quale deve affrontare delle cure molto costose. Maria Antonietta Sorgia invita tutte le future spose che vorranno sostenere Camilla insieme a lei nella sua dura battaglia a contattarla telefonicamente al numero 340 590 3176 per una prova gratuita dell'abito nel suo atelier in via costituente a Carbonia. Ovviamente si tratta di un abito fantastico, impreziosito da pregiati pizzi e ricami sapientemente realizzato a mano dalla stilista di Carbonia, il cui costo per l'occasione è di 2400 euro. Vediamo l'abito e l'intervista alla stilista. Maria Antonietta Sorgia stilista dell'atelier Antea di Carbonia. Siamo venuti a trovarti questa mattina per un'iniziativa fantastica, un'iniziativa benefica che andrà a favore di Camilla, la nostra concittadina che purtroppo sta affrontando delle cure, degli interventi molto particolari e delicati a causa di una malattia rara. La tua idea è stata questa, un sogno per Camilla che può anche essere il sogno di una futura sposa grazie a questo fantastico abito che vediamo alle tue spalle e che tu hai realizzato. Sì, conoscendo la situazione di Camilla volevo fare qualcosa di più, quindi ho pensato di mettere a disposizione un abito da sposa, quindi l'ho immaginato per una sposa fresca della primavera ma anche per il prossimo anno 2022, quindi chi volesse innamorarsi di quest'abito può venire a provarlo e fare il bonifico direttamente a Camilla e aiutarla a realizzare il suo sogno nel combattere le sue cure e la sua vita. Un pensiero per te Camilla, in bocca al lupo. Bene ritrovati in studio per questa seconda parte del Tg, ricordare, tramandare la memoria della barbarie e della cieca violenza per fare in modo che nelle nostre società i germi dell'odio non possano più produrre i loro frutti nefasti. Con queste parole il presidente della regione Cristian Solinas, a nome della Giunta, rivolge il proprio commosso pensiero alle migliaia di vittime delle foibe. Italiani e in parte anche sardi, vittime di una delle più sanguinari e stragi che la storia ricordi. Vite e storie familiari distrutte con l'intento criminale di cancellarne persino la memoria. Operai, minatori, carabinieri e militari, queste sono state le vittime della violenza assassina. Tra loro, ha detto il presidente, almeno 140 sardi, in buona parte minatori giunti da Carbonia per lavorare duramente nelle miniere istriane, ma anche molti militari. Molti di loro in fuga da quell'orrore trovarono rifugio in Sardegna, dando vita ad una comunità laboriosa e perfettamente integrata con il nostro tessuto sociale. Per molti anni sugli orrori commessi contro gli italiani, istriani, dalmati, fiumani, cadde un'ingiustificabile cortina di silenzio e agli esuli e ai familiari delle vittime veniva negato persino il conforto della memoria. Voltiamo pagina. La Sardegna punta sul turismo per il suo rilancio economico post pandemia. Tra le realtà più attive nel settore c'è Alghero. Pasqua, ma soprattutto l'estate. Il settore turistico sardo, compreso quello algherese, si chiede quali possano essere le prospettive per il rilancio del settore dopo un lungo periodo di crisi dovuto alla pandemia da coronavirus. Alcune proposte arrivano da Patrizia Petretto, esponente di Fratelli d'Italia Azione Alghero. L'inclusione dei dipendenti turistici tra le categorie prioritarie da vaccinare, l'apertura alla conoscenza nel settore privato sulla produzione dei tamponi rapidi per le imprese turistiche al fine di garantire lo screening costante dei dipendenti con sistemi di tracciabilità e monitoraggio a prezzi ridotti. La creazione di Covid Test Center presso le porte d'accesso con l'attivazione di sistemi di controllo efficaci e rapidi sulle partenze e sugli arrivi. L'erogazione di finanziamenti per nuovi investimenti anti-Covid da parte delle imprese del settore. Partendo da una sperimentazione regionale, ha rimarcato Patrizia Petretto, potremmo rendere la Sardegna isola pilota sui sistemi di sicurezza e sulla tracciabilità, anche vista la bassa densità abitativa ed il circoscritto numero di porte d'accesso. I turisti viaggeranno vaccinati o certificati a bordo dell'aereo o del traietto e una volta arrivati a destinazione nelle strutture ricettive proseguiranno il proprio viaggio in sicurezza. La sicurezza del comparto ricettivo è fondamentale per la clientela, per i dipendenti che vi lavorano e ovviamente per la tenuta economica del territorio. E ovviamente, conclude Patrizia Petretto, è importante non abbassare la guardia ed essere consapevoli che si dovrà convivere con il virus ancora per un po'. In tal senso è necessario fare ogni sforzo per rendere il più sicuro possibile il lavoro di chi opera nel settore, nonché la fruizione dell'esperienza da parte dei turisti. Con una filiera sicura, nei suoi nodi cruciali, possiamo accompagnare i viaggiatori e ritornare al lavoro. Torniamo nel sulci siglesiente. Il comune di San Giovanni Suergio ha approvato all'unanimità il PUL, ovvero il piano di utilizzo dei litorali. Dopo una programmazione partecipata sul futuro del nostro litorale, che ha visto la partecipazione attiva degli operatori del settore turistico, le attività di pesca e tutto l'organo di governo del Paese, ha detto l'assessore dei lavori pubblici e urbanistica Giuseppe Pinna, siamo giunti al primo passaggio consigliare del primo del piano che disciplina le attività turistico-ricreative dei nostri 13 chilometri di costa che vanno da Brunchedeula a Portobotte. Siamo soddisfatti del voto unanime alla delibera, ha aggiunto il sindaco Elvira Usai, che premia il nostro impegno su un obiettivo così importante per lo sviluppo del territorio e riconosce la capacità di condividere i contenuti con tutti i consiglieri comunali. Adesso invece ci trasferiamo a Monti, dove si rinnova il carnevale ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid, il servizio. Nel rispetto delle regole abbiamo cercato di annoverare la tradizione e di regalare un sorriso a tutti. Le associazioni non si devono fermare, è tempo di seminare tutti insieme all'insegna di una nuova primavera ricca di sorrisi e di speranza. E questo è il pensiero dell'amministrazione comunale di Monti, che nonostante l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, insieme alle varie associazioni del paese, ha deciso di promuovere, sempre nel rispetto delle norme anti-covid, il carnevale Montino 2021. Un lavoro frutto della sinergia tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Muzzu, il coro confraternita San Gavino Martire, l'associazione Sos Misureris, la Proloco, il coro Sos Ballaros, il coro Terra Galana, il gruppo folk San Paolo di Monti, l'associazione Erenzia, la banda musicale San Gavino Martire e il parroco Don Pierluigi Sini. L'11 febbraio, giovedì grasso, alcuni rappresentanti delle associazioni suddivisi per rioni passeranno nelle vie e ritireranno le derrate alimentari per la casa di riposo locale, mentre il 15 febbraio, martedì grasso, la giornata sarà dedicata ai bambini. Inoltre è stato promosso il concorso delle maschere al tempo di covid, concorso fotografico 2021. Ci spostiamo adesso invece in Gallura per i progetti che riguardano il consorzio di bonifica. Un grande progetto green che garantisca acqua ad un vasto territorio dalle grandi potenzialità agricole è quello messo in piedi dal consorzio di bonifica della Gallura, che ha promosso una serie di idee che consentiranno, con riciclo e meno sprechi, all'impresa agricola di poter programmare le proprie produzioni anche in anni di grande siccità. I bacini, ha rimarcato il presidente del consorzio di bonifica della Gallura, Marco Marrone, sono pieni e da questo punto di vista c'è la serenità da parte di tutti di poter programmare senza alcun assillo d'emergenza. Ci sono i fondi e ci sono le idee e i progetti, serve la volontà politica per dare ad un territorio importante, che conta imprenditori capaci, l'infrastrutturazione necessaria per far esplodere tutte le sue potenzialità. Il comprensorio del consorzio di bonifica Gallura conta di oltre 200 mila ettari all'interno di 17 comuni, dei quali circa 6 mila sono irrigabili. Si tratta tra l'altro di opere già ideate e progettate, come consorzio ha specificato il direttore Giosuè Brundu, è stato già presentato, approvato e finanziato un progetto di fattibilità per la diga di San Simone a ovest di Olbia, nella stretta del Monte Alvo, che potrà garantire 16 milioni di metri cubi d'acqua. Inoltre abbiamo anche un progetto green di recupero del reflui, che riguarda altri 14 milioni di metri cubi recuperabili attraverso l'interconnessione di tutti i sistemi di produzione reflui da Santa Teresa a Golfo Ranci, che consentirà di portare acqua anche laddove oggi non ce n'è. In questo caso il progetto riguarda la canalizzazione e l'emissione dell'acqua nel canale per 8-10 milioni di metri cubi d'acqua, che andrebbe a premiare importanti superfici in territorio di Arzachena, con la prospettiva di raggiungere anche Luogo Santo e Tempio Pausania. Bene ritrovati per questa terza parte del telegiornale. La nuova 195 è una delle grandi incompiute della rete viaria Sarda che abbiamo ereditato. L'ultimo di una lunga serie di incidenti mortali riporta in evidenza la necessità di garantire collegamenti stradali celeri e efficienti sicuri nella fascia costiera. Occorre un impegno concreto di Anas per portare a compimento un'opera ferma da decenni simbolo di incuria e lungaggini burocratiche. Lo ha detto il presidente della regione Cristian Solinas sollecitando l'Anas affinché imprima la necessaria accelerazione sui cantieri a partire da quello relativo appunto alla nuova 195 sul Citana. L'intero tracciato della nuova strada aspetta ancora di essere completato. Anche il gremio dei falegnami al suo componidori 2021 si tratta di Giuseppe Sedda nonostante la sospensione della Sartiglia per via dell'emergenza coronavirus. Oristano continua nel solco della tradizione. La nomina è arrivata dal maiorale in cabo Antonello Addari che ha deciso di affiancare a Sedda Tilio Balduzzi e Livio Urru. Si precisa, fanno sapere dal gremio, che la nomina non è stata divulgata nel giorno della festa della Candelora onde evitare assembramenti. Nei giorni scorsi Maurizio Casu era stato nominato componidori del gremio dei contadini. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, per aver scelto l'informazione di Canale 40. Adesso come di consueto le previsioni meteo e poi Noas in curso il nostro telegiornale Lingua Sarda. Io invece vi do appuntamento alle prossime edizioni per il telegiornale di Canale 40. Grazie per l'attenzione, arrivederci.